Dietro alla chiesa di San Giovanni e Paolo ogni notte si svolge un avvenimento particolare, l'incontro tra i fantasmi di due doji. Nel 1355 Marine Faliero organizza un colpo di stato, ma viene scoperto, decapitato e seppellito con la testa fra le gambe. Ancora oggi ogni notte vaga cercando la sua testa. La vergogna di Faliero è così grande che il fantasma del doji Enrico Dandolo, a causa dei massacri compiuti in nomi di Venezia, è condannato a vagare in cerca di Faliero per vendicare l'onore della città. Si dice che l'incontro avvenga di solito dietro la chiesa, ma che i due non riescano mai a vedersi. Grazie a tutti.